Il porto di Crotone si prepara a vivere una stagione di importante rilancio grazie ad una progettazione virtuosa e sostenibile che trainerà la crescita del territorio e dell'economia locale. Parole rassicuranti quelle del Vice Ministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli a margine dell'incontro Porto e Digitale per la Rigenerazione Urbana promosso dalla Camera di Commercio. Sono due i progetti presentati dall'ente camerale del valore complessivo di oltre un milione di euro ammessi al finanziamento PON Infrastrutture e Reti 2014-2020. Il primo, Cala Green, di importo pari a 980 mila euro, renderà il porto di Crotone all'avanguardia nel monitoraggio ambientale per efficientare la movimentazione di merci e passeggeri. Il secondo, Cruise Hub, del valore di 110 mila euro, servirà a migliorare l'accessibilità turistica dello scalo. Manca solo la sottoscrizione della convenzione che dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana. Beh, innanzitutto si va avanti. La cosa positiva è che sicuramente l'interlocuzione con il Ministero è un'interlocuzione positiva. Sono venuto a raccogliere le proposte e suggerimenti da parte della Camera di Commercio e dell'autodità portuale per capire quali possano essere gli sviluppi possibili e rapidi del porto di Crotone. L'Italia ha fatto un sopralluogo, ha visto il porto, è stato in capitaneria. Che idea si è fatto? Beh, sicuramente è un porto che purtroppo a causa del Covid, come sappiamo, come tante altre realtà portuali italiane, ha subito dei gravi danni. È un porto che pre-Covid aveva grandi opportunità di sviluppo, ma sviluppo non sulla carta ma reali. L'annuncio di numerose crociere in arrivo in città. Detto questo, passata la pandemia, quindi la crisi sanitaria, ci auguriamo di poter contribuire con il lavoro del Ministero a far sì che il porto di Crotone possa tornare a volare anche attraverso una giusta progettualità che lo rilanci. La presenza dell'esponente di governo a Crotone è stata occasione per parlare delle infrastrutture, tra tutte, strada e aeroporto. Parliamo della 106. La 106 chiaramente è una delle priorità inserite nell'agenda del governo. Il governo Draghi ha scelto da subito di istituire un'opera commissariale e peraltro il commissario è proprio l'amministratore delegato di ANAS, quindi diciamo il massimo esperto per quanto riguarda il possibile sviluppo e la miglioria della statale 106. ci sono parecchi finanziamenti che riguardano questa importante attenzione stradale che spero possa essere ricordata come la ex statale della morte. L'aeroporto è una realtà che, come sappiamo tutti, è complessa, sulla quale SACAL deve fare sicuramente la sua parte, noi siamo comunque dalla parte del territorio.